La crisi colpisce anche uno dei marchi storici del Made in Italy, famoso nel mondo per le sue bevande, la San Pellegrino. Nei giorni scorsi l'azienda ha annunciato la messa in mobilità di 120 dipendenti dello stabilimento di Ruspino in Val Brembana. Comune, provincia e sindacati bergamaschi si sono subito mobilitati in sostegno degli operai. Risultato? È stato istituito un tavolo anticrisi a cui parteciperà anche la regione Lombardia. È subentrato il grosso problema dei dazi americani e l'America ha messo dei dazi sulle acque minerali italiane che rendono quindi non più competitiva l'acqua minerale italiana. La San Pellegrino di fatto era l'unica acqua presente nei mercati statunitensi e questo penalizza quasi di un 20% il fatturato dell'azienda che quindi si trova in difficoltà, questo si somma la crisi, quindi nessuno nega che ci sia la crisi e che sia una crisi importante. La contestazione riguarda sulle modalità con cui la crisi viene affrontata, quindi con questa decisione quasi drastica di licenziamento di fatto di 120 persone. La questione è controversa questa del protezionismo americano diciamo nei confronti delle importazioni. Ma guardi io sono concettualmente contrario ai dazi, in un'economia come dire globale come questa il dazio è una misura protezionistica che alla lunga non arriva. Certo l'Italia se si entra in una logica di dazi essendo l'80% dell'economia italiana basata sulle esportazioni entrerebbe in una situazione drammatica. Ora però grazie all'intermediazione del ministro per le politiche agricole Zaia i dazi americani sono sospesi fino alla fine di aprile quando sarà presa una decisione definitiva.